Eh, cosa dice il professor Guglielmo Cevolin, docente, esperto in geopolitica e fondatore di storia qui in Friuli Venezia Giulia e, possiamo dire, fondatore perché sì, l'IMES ha un capo, però lui da anni, da anni a Norum, ha capito che era una cosa importante e se l'è portata in Friuli Venezia Giulia, ed è il braccio destro, insomma, del grande direttore di l'IMES. Cosa sta accadendo? La carica del leader del Movimento 5 Stelle, la sinistra riparte da noi, avanti o popolo, eh? O no? Me li vedo, eh, col bacco in testa. Ma diciamo che, per esempio, per il tema dell'energia, i governi passati, o comunque la classe dirigente passata, aveva la capacità di dialogare con i territori e cercare di convincerli ad accettare delle scelte che sono necessarie, anche perché non si può dire no a tutto. Qua, allora mi scusi, qua dicono no a tutto, perché quando noi siamo diventati gasdipendenti, eh, tra l'altro, l'ho detto qualche giorno fa, lei lo sa perché il gasolio costa di più della benzina? Va a benzina o a gasolio la sua macchina? Tutte due. Bene. Perfetto, sa perché costa di più il gasolio oggi? Ieri era la benzina e costava molto di più del gasolio. Lo sa perché? Per la domanda, penso. No? No? Perché noi siamo gasolio dipendenti dalla Russia. L'Europa importava il 60-70% di gasolio dalla Russia, mentre la benzina veniva raffinata da noi. Ovvio, ma il gasolio arrivava dalla Russia? Ecco perché oggi il gasolio tocca i due euro e la benzina siamo su 1,8, 1,7 e 90. Questo è il perché. Allora dico, in questi anni cosa ti ho fatto, professore? Nulla! No al nucleare. Poi andavamo in Francia a comprare elettricità. Adesso la Francia ha detto, come on? No al carbone. No alle centrali idroelettriche. No, 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 no. No al fotovoltaico in quelle case che possono disturbare il paesaggio. Ho sbaglio? E allora qualcuno dice, e allora fofo? Fofo? O no? Ecco, queste sono le sfide del nostro nuovo governo e quindi vedremo non solo la direzione che sarà sicuramente atlantica del nostro governo, ma vedremo anche poi le risposte a questi temi. Temi che sono per quest'anno, ma anche per il prossimo, perché alcuni sostengono che è il prossimo anno che sarà l'anno ancora peggiore, perché tutti i no che abbiamo detto, anche se decidessimo oggi di dire sì a qualcosa, non si riuscirebbe in tempo, per certi versi, per il prossimo inverno. Quindi non addirittura solo problemi per questo inverno, ma anche già per il prossimo addirittura in prospettiva più grave rispetto al periodo, già a questo periodo che si profila piuttosto grave e triste. Quindi è un governo del quale abbiamo bisogno e con il quale cerchiamo di compattarci perché ne va del nostro paese. Chi spera che il governo non riesca a fare il suo compito vuole male all'Italia. Parliamo della guerra in Ucraina, con l'intervento di Erdogan, che in questo caso ha invitato Zelensky, non dico a deporre le armi, ma a trovare una soluzione, a sedersi al tavolo delle trattative. Diciamo che Erdogan l'ha fatto dopo l'incontro con Putin e dopo aver incassato una cosa che non so che effetti avrà, chiedo io anche l'opinione del nostro direttore, cioè questa cosa di TurkStream, cioè dell'accordo di far passare molto più gas per il gasdotto che collega la Russia alla Turchia. A chi lo venderà questo gas, l'incredibile Erdogan che riesce ad avere contatti con tutti, che riesce a dare i dironi. Il Medio Oriente può arrivare in quei paesi che hanno bisogno di gas. Non so, vedremo. Dopo questo colloquio, i paesi africani ce lo vendono a noi, soprattutto quelli del Nord Africa. Ci sono anche paesi... Non so come arriverà dalla Turchia, ma ci sono. Ci sono anche paesi, però anche non so come glielo pagano, quindi ci sono tanti dubbi su questo. Ma dopo comunque questo colloquio abbiamo visto il nuovo ruolo sempre che risorge come l'Arabia Fenice, diciamo sempre Erdogan su questo, cioè di ruolo di pacere, alla fine è riuscito anche a fare dei colloqui in presenza nei primi mesi della guerra, poi... è riuscito a portare il grano, il grano, cosa non di poco conto, eh amici. Il grano, soprattutto per l'Africa, anche in questo caso, è un risultato della politica incredibile, con i piedi in quattro staffe, come riesce a stare Erdogan, che però è anche... ne parlavamo con il professor Alessandro Colombo, è un po' l'idea che c'è oggi in questo mondo multipolare, dove per esempio l'India non si capisce bene se fa parte del quad di contenimento della Cina, secondo la versione degli Stati Uniti, o col fatto che comunque ha dei buoni rapporti anche con la Russia, ecco, da questo lato si ha, diciamo, un ago della bilancia, per esempio, per il futuro, perché molto delle situazioni internazionali dipenderà dall'India, che è una delle potenze demografiche, perché l'India continua ad avere ad avere una crescita demografica notevole, ed è una crescita demografica anche di qualità, perché poi vengono fuori ingegneri informatici, e quindi l'India è un soggetto che dobbiamo tenere molto in attenzione come Occidente. Altra cosa che è interessante, e qui entriamo anche nel merito poi della discussione, no? E riusciranno i nostri eroi, dicevamo Erdogan e comunque quanti scendono in piazza a convincere i due a sedersi ad un tavolo? E per sedersi al tavolo cosa serve, secondo lei? Parlo di Vladimir Putin e Zelensky. Per sedersi al tavolo serve una cosa, per esempio, che Putin accetti che non è che lo status militare, cioè le piccole conquiste che ha fatto, sono ormai acquisite e poi si inizia a parlare di altre cose, però questa cosa qui molto probabilmente non la può accettare, non la può accettare Putin che addirittura ha fatto non solo il referendum, ma ha fatto persino la legge marziale nei nuovi territori conquistati per dare più potere ai nuovi ras locali che controllano le quattro zone che è riuscito a conquistare. Poi ci sono, queste sono questioni dettate dall'orgoglio, dettate dal spiegare le mosse militari alla sua opinione pubblica e così via e così via, ma poi ci sono anche questioni estremamente strategiche, per esempio non può rinunciare, lo vedremo poi nella seconda parte quando faremo le cartine, non può rinunciare Putin alla Crimea, però Zelensky e anche gli Stati Uniti, l'Occidente invece pretende che, e anche Zelensky ovviamente, pretende che Putin non solo se ne torni nei confini del ante 24 febbraio 2002, ante 24 febbraio, è una precisazione che temo... Anche perché nel 2014 l'ha stato stabilito, cosa facciamo? Ritorniamo alle guerre puniche? Noi stabiliamo che non è più Slovenia ma è Dalmat, va bene? No, 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 perché la Crimea, Zelensky, non vuole accettare che rimanga alla Russia, ecco, quindi le posizioni sono ancora troppo distanti e la mediazione ci sarà, la mediazione ci sarà, il problema è quando? Ecco qua, quando, potremmo chiamare il nostro amico, quando quando, dimmi quando tu verrai, dimmi quando tu verrai, perché poi alla fine stiamo andando avanti oramai dal 24 febbraio. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, è intervenuto anche lei, su questa disanima di enti preposti che hanno parlato anche di un possibile attacco con bombe nucleari tattiche, che non sono le bombe nucleari conosciute dai giapponesi, ma sono bombe con chilotoni piuttosto ridotti ma che possono distruggere intere città, addirittura un calcolo, diciamo si parla di 85 milioni di persone che perderebbero la vita in uno scontro particolare, dobbiamo avere anche delle immagini, ma si è detto, lo abbiamo detto anche noi, in questa indagine fatta da osservatori. Un istituto di ricerca, Liria, Liria, che non è, che è il primo, vedete, questa è l'Italia, guardate in basso a sinistra, vedete, c'è Aviano, vedete qui due triangolini, e tra essere, tra le zone colpite, tra le prime, attenta arriva, ecco la bomba che sta arrivando, in questo momento vedete che si è acceso in fondo Aviano, e poi parlano anche di Jedi, di Jedi, perché ci sono delle testate nucleari che possono essere attivate per colpire la Russia, ovviamente, e poi avviene questo, avviene insomma avanti tutta, dai e qua e dai e là. Cosa c'è di vero? Ma allora bisogna distinguere... E quanto dobbiamo temere? Allora, bisogna distinguere tra il nucleare strategico, nucleare strategico, ne abbiamo parlato con Franco Scolari, presentando il nostro Master in Intelligence e Information Technology dell'Università di Udine, al Polo Tecnologico di Alto Adriatico, qui a Pordenone, in via Roveredo 20, e ne abbiamo parlato con Franco Scolari, che da ingegnere informatico ha spiegato come per il nucleare strategico non è che c'è l'attivazione di un bottone di reazione, cioè è già tutto interpretato e analizzato dai computer e quindi se parte qualcosa dalla Russia, parte immediatamente qualcos'altro dall'altra parte e scoppia il disastro e quindi quello è il nucleare strategico e non pensiamo che verrà utilizzato. Speriamo ovviamente, e preghiamo anche perché non venga utilizzato ovviamente, ma speriamo e crediamo che non venga utilizzato. Avviano. Allora, avviano nucleare tattico. Allora qui stiamo parlando di un nucleare che intanto, secondo il diritto, secondo gli accordi, dovrebbe essere ancora nei magazzini, comunque ci deve essere... Non è che siamo andati io e lei a vedere. Ecco, no, su questo... Scusi, a me viene da ridere quando dicono dovrebbe, non dovrebbero neanche usare le armi chimiche, ma sono state usate. Però no, però lo sanno sicuramente, ecco, quello che voglio dire è che lo sanno sicuramente gli Stati Uniti... Non mi pare che non abbia filmato. Gli Stati Uniti lo sanno, però no, questo del nucleare tattico è ancora un accordo vecchio, vecchio, sì, ma... Vecchio della... Insomma, i trattati, i pacta sunt servanda, i trattati ancora alla fine della guerra fredda sono sul nucleare strategico e sul nucleare tattico. Il nucleare tattico era stato messo da Accordi, Bush e addirittura Gorbaciov, dovrebbe essere. Sì, sì, c'era Gorbaciov. Avevano messo il nucleare tattico... Non pare che era intervenuto comunque Putin su questo fatto, non vorrei adesso... Comunque, a parte che siano o non siano i magazzini, siano già sguainati, ma il problema è che c'è un ordine che deve partire, in questo caso sì, vedete la differenza tra nucleare strategico e nucleare tattico, un ordine che deve partire da Putin al Ministero della Difesa per attivare questo nucleare tattico, poi deve essere fisicamente caricato o su dei missili, fisicamente caricato su degli aerei, l'Iriad che ha fatto questa ricerca parlava di bombardieri, ecco, ma è un'ipotesi di scuola, penso, perché i bombardieri... Prima che arrivino qua... Vengono, cioè, è come un attacco al territorio... Ma perché dicono, ecco, io prima ho detto, perché dicono che comunque noi siamo fortunati perché abbiamo un... No, qui, ecco, su questo, no, il cappello, su questo, ovviamente, attaccare Aviano è come attaccare gli Stati Uniti, quindi c'è l'intelligence che controlla con i satelliti oggi in movimento, si sbaglia di un mezzo... Ma se partiamo da questo per un posto, mi scusi, se attaccano Aviano, attaccano la Nato, allora intervengono tutti, l'articolo 5, tra l'altro, dicono che ci sia un cappello, cioè, quando dicono un cappello... Ma il cappello è come dire che attraverso l'alleanza Nato... Eh no, eh no, perché quando piove io metto il cappello... Ma quello è lo scudo, stiamo parlando ancora degli scudi... No, no, dico, se parte la bomba, ok, noi, vabbè, in Israele bloccano determinate situazioni perché hanno delle contromisure... E viene, ma viene intercettato, viene colpito, questo è lo scudo... C'è la possibilità? Beh, allora, aerei sicuramente sì, allora, aerei sì, missili anche, perché anche i missili tattici possono essere intercettati, come già accade adesso, in Ucraina, figuriamoci se devono fare un percorso più lungo e arrivare ad Aviano, ma o ad Aviano o a Napoli o a Vicenza, le previsioni poi erano queste, tra l'altro le previsioni prevedevano anche il numero di morti, per esempio per Aviano 710 morti e 2.200 feriti, per Napoli invece, per Napoli più morti e 109.000 feriti, per esempio, con questi dati precisi, ovviamente dipende dalla densità abitativa intorno alla base, ecco queste cose qua, però sono ipotesi di scuola, ecco, allora, diciamolo che sono ipotesi di scuola, il pericolo però c'è, e il pericolo da cosa è dettato? Dall'escalation che sta continuando, dal fatto che gli Stati Uniti hanno cambiato la loro strategia di sicurezza nazionale e ormai la stanno mutando, non più nel considerare la Russia e la Cina, ma sulla Cina poi parleremo magari dopo, ma la Russia un nemico ma razionale, ma ormai lo schema che sta uscendo da questi documenti strategici è che ci si aspetta da Putin di tutto, qualsiasi cosa, quindi ormai si sta ragionando anche delle cose nucleari, quindi ci stiamo sempre più avvicinando a questi scenari, ecco. Certo, l'altra ipotesi che non è stata però presa in considerazione è che queste bombe nucleari, questo nucleare tattico sia caricato su dei droni, ecco, anche qui, anche qui tendenzialmente ci dovrebbe essere la possibilità di intercettazione perché i satelliti controllano e quindi la distanza ancora che ci separa dalla Russia ad Aviano, per esempio, le nostre basi e dovrebbe consentirci di essere protetti. Certo, di tutti questi meccanismi beneficiamo prima di tutto dell'intelligence e poi delle tecnologie degli Stati Uniti e della Nato, perché? Perché un attacco a quelle strutture sarebbe come un attacco negli Stati Uniti, ecco. Quale situazioni un po' così particolari, no? Ma lei, da studioso, insomma, da persona che gira il mondo, che parla con i suoi colleghi via Skype, immagino che... Anche a convegni, anche a convegni fisicamente, per fortuna. E anche, scusi, e anche con quanti alla fine, no, pubblicano su Limes le loro posizioni e quant'altro. Come vede la situazione oggi? Ma oggi... Tra le due superpotenze, Russia e Stati Uniti, ma non dimentichiamo Cina, India. Perché ci sono... Ma diciamo che Putin, in realtà, che è la cosa che voleva con questa guerra sicuramente affermare di essere una superpotenza, in realtà, come ha ravvivato dalla morte cerebrale la Nato, così sta andando verso una situazione di estrema difficoltà la Russia. Certo, anche qui, la riflessione è da fare, ma non è che proprio noi europei stiamo andando in una situazione, dal punto di vista soprattutto economico, energetico, politico, di proteste che potrebbero nascere, eccetera, eccetera, disastrosa. Quindi, anche lì, sarà da vedere chi dei due soggetti, per esempio, ha maggior resilienza, cioè tra l'Europa, perché se l'Europa... Diciamo subito, però, per sgomberare il campo, io non metterei, però, che tutto quanto sta accadendo dal punto di vista economico sia colpa della guerra. La guerra è stato... Accentuato, accentuato, accelerato. Sì, ma già l'anno scorso materiali aumentavano, costi, anche energetici aumentavano. Non a caso veniamo fuori, per esempio, da una pandemia che, per esempio, ha bloccato... A gasolio, gas, già nel 2021. Ecco. Non dimentichiamo che tutto nasce ad Amsterdam, da due aziende private che hanno dato vita a questa borsa che non si capisce bene a cosa serva. È una cosa che sta succedendo... Se non per ingigattire le tasche dei soliti noti. È una cosa che sta succedendo, poi, è che l'OPEC ha deciso di produrre meno petrolio e quindi fa salire... Da novembre. E questo, questo, anche questo, è uno degli elementi che ci fa capire, per esempio, che nella distinzione tra autocrazie e democrazie... Questo fa capire che Biden conta come il due da picche, perché se fosse stato Trump, come era già accaduto, l'Arabia Saudita non si sarebbe comportata come sta comportando con questo soggetto che può far tutto, l'attore, il podista, il ciclista, ma non il presidente degli Stati Uniti d'America. Perché dite tante di quelle ciance che dovrebbero starsene zitto anche sull'Italia, che ci ha dato, insomma, di un paese, tra virgolette, fascista. Avete visto cos'è accaduto? Perché non si guarda a casa sua? Perché non guarda a casa sua? Diciamo, a casa sua ci ha avuto l'assalto a Capitol Hill, quindi da quel lato è uno degli elementi di crisi, ecco, interna. Vedremo le elezioni di metà mandato, questo qua diventa non un'anitra zoppa, un'anitra... Senza gambe, cioè perde tutti e due i... Lei dice di no? I dati dicono questo. Non ne ho ancora parlato con il figlio del professor Diamanti, che conosce molto bene, perché lì la possibilità di fare le previsioni normalmente, poi Trump un pochino aveva scombussolato le cose, passa addirittura dal fatto che fisicamente si può passare nei diversi quartieri dei quali si sa già più o meno che cosa votano, ma si vedono le scritte che mettono fuori casa per casa addirittura, cioè c'è un controllo da questo lato dei sondaggi, tra virgolette, che è eccezionale, quindi se in tempi però dove non viene fuori la sorpresa strategica come è venuto fuori nel caso di Trump. Anche lì, ma ne parleremo in una prossima domenica magari quando ci avviciniamo a quella data. Quello che volevo dire è che la Cina è l'altro soggetto in realtà molto importante. Allora cosa sta succedendo in Cina? Allora intanto cosa sta succedendo in Cina è difficile da capire perché nonostante ci sia il congresso del partito che si sta avviando a conclusione e c'è la conferma sicura di Xi come terzo mandato, come segretario del partito comunista, come capo dell'esercito e quindi con le cariche più importanti che muovono tutta la Cina, però ci sono, come dire, intanto dei cambiamenti, nel senso che nel congresso, durante il congresso, sono cambiate le classi dirigenti ma in che direzione? In direzione di iper-yes-men di Xi. Quindi ci sarà una notevole continuità delle politiche di Xi. Allora una prima politica che Xi ha messo all'ordine del giorno è la sicurezza della Cina che prevede 16 argomenti che praticamente fanno capire che la Cina si ripropone come vera e propria superpotenza mondiale pronta a sfidare o a resistere alla sfida degli Stati Uniti. Tuttavia ci sono anche degli elementi di criticità che sono, per esempio, durante il congresso non mi pare che sia stato comunicato lo stato del PIL in questo periodo. Perché? Perché c'è un notevole abbassamento della crescita cinese e quindi è stato oscurato questo elemento e questo elemento però dipende da diversi fattori, almeno due ci saranno ancora e continueranno. Un primo fattore è la chiusura pazzesca che fa Xi per il Covid e quello è un problema grave perché blocca intere città, blocca intere, diciamo, soprattutto perché non arrivi a Pechino perché ha paura che arrivi a Pechino, che arrivi a lui. E allora quell'elemento lì cosa sta creando? Sta creando un rallentamento dell'economia cinese, oltre agli altri scenari che sappiamo anche in parte dipendono dalla guerra, dalla pandemia, da diversi strettoie e così via. Questo rallentamento della Cina ha delle gravi conseguenze nei confronti dell'economia mondiale perché la crescita cinese comunque dava respiro anche alla crescita mondiale. Poi il problema è che l'altro elemento di freno alla crescita è che ormai il controllo, la dittatura cinese sta diventando pesantissima, pesantissima il controllo sulle persone fisiche e in particolare sono attenzionati i vertici delle grandi società cinesi che sono o completamente dipendenti dai diktat di Xi e quindi a quel punto sono anche società, tra virgolette, tossiche come Huawei che cerca, dato che ha notevoli blocchi di aggiornamento con la tecnologia degli Stati Uniti, cerca di rubarla. Mettiamo anche in campo, scusi, ci metto un altro carico per farla appunto parlare ed entrare ancora di più Taiwan. E poi c'è Taiwan. L'ultimo congresso del Paese comunista è stato detto che Taiwan fa parte della Cina e non è escluso l'intervento militare. E Biden ha detto difenderemo Taiwan. Ma con cosa? Andrà lui a difendere Taiwan? Ma con cosa? Io temo che da questo lato come hanno attivato meccanismi pesanti di... Ritorsioni economiche? Eh no, anche di... Manda l'esagio di marini. Con le portaerei, con... Io... Cioè, guardate che... Sì, certo. Questo tipo di mondo al quale stiamo andando. La prima fucilata... C'è la terza guerra mondiale? Perché se noi siamo nella Nato e la Cina attacca l'America, siamo obbligati anche noi? Ma... No, perché bisogna... Scusi eh. Se Biden difenderà la Taiwan, vuol dire che è la... Sono gli Stati Uniti che intervengono militarmente su un territorio che da punto di vista giuridico ormai il diritto quando iniziano a girare questi venti... No, io ho detto... No, no, non ha capito. Io ho detto che se un domani la Cina attacca gli Stati Uniti d'America... Ma la Cina non attacca gli Stati Uniti d'America, la Cina si vuole impadronire di Taiwan e lì qualcuno glielo impedirà. Lei dice la Cina stanotte manda le sue truppe a Taiwan, domani... E Taiwan si difende perché è da un po' che... Eh beh, armi dappertutto. C'è un po' di tempo di mare da percorrere. Certo, ma io... Guardi, mettiamo sul campo il fatto che la Cina domani con le sue truppe entra a Taiwan. Gli Stati Uniti d'America cosa fanno? Eh, questo è il discorso. Biden ha già detto che difenderemo Taiwan. Questo difenderemo Taiwan, cosa vuol dire? Vuol dire che o si mettono in mezzo quando sta arrivando... Io stavo dicendo, se le navi sono fuori di Taiwan e la Cina attacca e manda a picco le navi, gli Stati Uniti d'America possono chiedere l'intervento, in questo caso della Nato anche, perché loro non hanno fatto niente, sono stati attaccati. Beh, non hanno fatto niente. Se vanno, dipende se stanno... Non mettono in acqua i territoriali. Comunque, è una situazione... È una situazione... Sì, io non credo neanche che... Diciamo... Che la Cina... No, che gli Stati Uniti siano disposti a morire per Taiwan, così come non stanno facendo, per certi versi, per l'Ucraina. Nel senso che è stato dichiarato, combatteremo fino all'ultimo ucraino, che vuol dire... Combattete voi? Tidiamo tutte le armi, combattete voi, e così via. E lì combatteranno probabilmente fino all'ultimo taiwanese che combatte. Appunto, ma loro saranno di qua. Combatteremo fino all'ultimo taiwanese che combatte. Il problema è questo. Questa è oggi la realpolitik. La situazione verso la quale stiamo andando, con questo mondo multipolare di questi tempi, è questa. Sì, ma lei che studia da una vita questi problemi, questi problemi, si aspettava che accadesse quello che sta accadendo? No, questo no. Questo, ovviamente non ci si aspettava Putin, nessuno se l'aspettava. Ma dopo pratica di mare, lei non ha visto un cambiamento dello zar in questi anni? Mi tocca una curiosità. Un po' c'è quella cosa lì, ma addirittura risale anche... Era, in realtà, il discorso di pratica di mare non era solo il ruolo del cavaliere più giovane e più vispo, ma era l'idea di Gorbaciov. Anche Gorbaciov aveva quell'idea lì, cioè del fatto che la Russia in qualche modo si... Ma Putin non avrebbe mai fatto, tant'è che ha ripudiato Gorbaciov, e lo abbiamo visto anche durante gli ultimi giorni di vita, si è presentato col mazzo di Garofani o quel che era di colore osso, ma non ha dato il via ai funerali di Stato. Putin, fin dall'inizio, ha detto che la Russia è diversa, la Russia ha una diversità, la Russia, per esempio, la quale diversità è un impero, si pensa come una superpotenza e poi se non è superpotenza la Russia non è. Scusi, ma... Secondo punto, questa è la dottrina di Putin. A me piacciono molto i libri di storia, li leggo e quant'altro. Non sono uno storico, a me piace leggere, mi piace informarmi. Io quando ho pensato che qualcosa cambiava, perché le danno del comunista, del KGB, nulla di tutto questo. Le idee imperialiste. Quando è andato lui, cosa ha cambiato? La bandiera russa. Quella bandiera russa. I colori. Sono i colori dello zar. Infatti, lui si pensa qualcosa di molto vicino allo zar e ha questa ambizione di riportare la Russia a un ruolo nel mondo che c'ha già, perché ce l'avrebbe dal punto di vista energetico, ce l'ha dal punto di vista spaziale, cioè quando uno guarda il mappamondo, vedere questa roba che è la Russia, è chiaro che ha un ruolo tra Europa e Asia nella famosa Artland, cioè in quel pezzo di terra emersa. La bandiera della Russia è un tricolore composto da tre bande orizzontali uguali, il bianco in alto, il blu, al centro e il rosso nella parte bassa. La bandiera fu impiegata all'inizio sulle navi mercantili russe e divenne bandiera ufficiale del Tsardom della Russia nel 1696. Sì, non so se mi spiego. E' un richiamo alla grande esperienza degli zar che è stata anche una grande esperienza di modernizzazione di alcuni zar. Il tema è che per esempio Putin non è riuscito a fare questa modernizzazione perché a parte gli unici due settori che sono il settore energetico e il settore degli armamenti, poi il settore energetico aggiungiamo anche l'energia nucleare perché hanno offerto la tecnologia nucleare all'India nei rapporti di relazioni che ci sono tra Russia e India, quindi non è solo il gas e il petrolio. Però a parte questi due settori, le armi e certi tipi di armi, soprattutto l'aeronautica, certi tipi di armi, e perché i caro armati abbiamo visto un po' qualche impasse, ma l'altro settore è quello energetico, ma a parte questi due settori non ha creato altri settori di sviluppo per la Russia. E quindi la Russia è un paese che vive anche in una situazione economica con un PIL molto basso e con un'economia che tra l'altro ormai oggi a causa della guerra anche va verso l'autarchia. Quindi a questo punto ha anche un giro d'affari sempre più ridotto, un'economia che è sempre più ridotta. Quindi da questo punto di vista Putin ha anche fatto sicuramente degli errori e in realtà probabilmente alla fine di questa guerra nominalmente sarà sempre una superpotenza, ma dopo questa guerra verrà ridimensionata. Io penso di sì. Io penso che troverà degli accordi dove lui rimanerà Putin a guidare la Russia e continuerà quello che ha sempre fatto all'interno dei confini. Se rimane Putin sarà una Russia comunque che non continuerà delle espansioni di tentativi in Europa, per esempio come sta facendo con la questione ucraina, come sta facendo con certi attacchi informatici, con certe... la vedremo un po' ridimensionata. Altrimenti ci sarà il cambio e lì una delle ipotesi anche che è molto desiderata dagli Stati Uniti è questa, è che è un'ipotesi che come dire si fregano le mani i russi, gli Stati Uniti nei confronti dei russi, cioè la spartizione, la divisione della Russia. No, leggevo che Conte, la sinistra riparte da noi. Ma bisogna mettere la cravatta rossa, Conte? Non può più mettere quella celeste, più o meno quelle cravate da Forza Italia, perché se no... e la pochette non esiste nel mondo, insomma, della sinistra. Appello, il basco... Diciamo che non deve mettere la cravatta. Ma farà strada il Conte, dai, su. E allora andiamo con il BK e poi iniziamo per l'ultima parte.